Le vendite estive di fine stagione per l'anno 2019 in Campania avranno inizio il giorno 29 giugno. L'anticipo è in via straordinaria, formalizzato con decreto dirigenziale, pubblicato sul Burk e motivato dall'evento internazionale delle Universiede, che si svolgerà sul territorio della regione Campania dal 3 al 14 luglio 2019. L'anticipazione al 29 giugno rispetto alla previsione del 6 luglio è del tutto eccezionale ed è frutto di un lavoro sinergico di condivisione con la conferenza delle regioni. Si è ritenuto opportuno, fanno sapere dalla regione, accogliere le istanze di alcune delle associazioni di categoria operanti nel settore del commercio che hanno evidenziato le potenzialità di incremento del volume delle vendite in correlazione allo svolgimento dell'Universiade e richiamato la necessità di offrire al comparto la possibilità di agganciare una ripresa essenziale a scongiurare la perdita di ulteriori posti di lavoro.